ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video questa qui è una copertura fatta da una mia amica e ha soltanto tre tip tre ricostruite insomma trinche ricostruite e niente ha voluto questo fucsia glitterato brillantilato su tutte le unghie non è di passione unghie e sto applicando una prima passata poi andrò con una seconda e la terza metterò un po più di prodotto insomma per far esaltare di più questo colore e infine il lucido di passione unghie ultra gloss e l'olio cuticole sempre di passione unghie io spero che il video vi piaccia se sarà così metterete il pollice in su se volete sotto al video vi commentate e niente noi ci vediamo presto al prossimo video un bacio ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.